Salve, sono Benemeno Franceschini, sono il Vice Presidente del Caffè Geopolitico e il Coordinatore del Desc Africa Subsahariana. Proprio di Africa parleremo in questo breve video con i consigli ovviamente non richiesti per il prossimo governo della Repubblica Italiana circa le regioni subsahariane. Cominciamo tentando di individuare un quadro dell'Africa contemporanea, a cominciare per esempio dalla pandemia di Covid-19. La campagna di vaccinazione sta procedendo a relento, sia per le difficoltà dei paesi africani sia perché l'intervento internazionale ha riscontrato diverse inefficienze e diversi ostacoli. Ad oggi meno del 25% degli africani ha completato il ciclo vaccinale. La crisi globale poi scatenata dalla pandemia di Covid-19 farà sì che le prospettive di crescita del continente per il 2022 si attestino probabilmente sotto il 3,5%. La regione sta subendo poi i contraccolpi della crisi in Ucraina, della guerra in Ucraina. Per quanto diversi stati africani abbiano mantenuto un atteggiamento neutrale o addirittura tendenzialmente favorevole al Cremlino, le carenze nelle forniture di cereali e prodotti chimici stanno incidendo sulla sicurezza alimentare, soprattutto in un momento già caratterizzato da importanti emergenze climatiche come la siccità in corso nel corno d'Africa. Nei piani europei l'Africa sarà progressivamente sempre più importante per individuare alternative alle forniture energetiche russe, ma questo comporterà investimenti consistenti nel lungo periodo ma anche un confronto diretto con Pechino e con Mosca. Mosca che è attivamente impegnata in un'opera di penetrazione del continente africano, talvolta a sostegno di soggetti colpisti come in Mali, in Burkina Faso o in Sudan e anche tramite l'impiego dei mercenari del gruppo Wagner. C'è poi il quadro della sicurezza che è preoccupante. La minaccia jihadista avanza, avanza nel Sahel, per esempio laddove il governo del Mali con il proprio atteggiamento di ostilità alle missioni internazionali, sta mettendo in discussione l'architettura di sicurezza, favorendo anche gli sconti tra i vari gruppi jihadisti. C'è un'avanzata del terrorismo islamico nella zona del lago Chad e in Mozambico con il gruppo al-Shabaab da non confondere con l'omonimo Somalo che sta dimostrando la propria pericolosità. E poi per esempio c'è il conflitto nel Tigray, una guerra che va avanti da diversi mesi tra l'Etiopia e la regione del Tigray e che sta mettendo in discussione e a rischio la stabilità delle regioni orientali dell'Africa. Ma perché è così importante l'Africa subsahariana? Storicamente l'Africa subsahariana è uno degli spazi strategici della geopolitica italiana e è il continente nel quale si concentreranno in ampia parte alcune delle più importanti sfide per il futuro. Per l'Italia la regione è rilevante principalmente per tre ordini di motivazioni. Innanzitutto perché l'Africa è centrale non soltanto per la stabilità del Mediterraneo ma anche per la stabilità della sicurezza globale. Basti pensare ai trend demografici dell'Africa. Sarà poi il continente che costituirà la nuova frontiera per l'approvvigionamento di energia e sarà il continente che subirà maggiormente forse gli effetti dei cambiamenti climatici, quindi con un impatto anche sui flussi migratori. Quindi qual è il consiglio che come caffeggio politico vorremmo lasciare al prossimo governo italiano? Beh innanzitutto riportare l'Africa tra le priorità della politica estera italiana. È inevitabile che l'Africa torni centrale nella politica estera italiana. Questo significa lavorare sia in sede europea sia autonomamente per individuare approcci alla pari che valorizzano gli interessi africani. Non servono piani Marshall, serve un approccio alla pari. L'Italia dovrebbe integrare le azioni per il contrasto alle migrazioni regolari e la sicurezza energetica con una strategia multidimensionale per intercettare le necessità africane in termini di sviluppo umano, diritti, creazione di opportunità economiche e stabilizzazione. Dobbiamo interrompere i circuiti critici come il sostegno purtroppo frequente nel passato a pratiche opache di esternalizzazione delle frontiere e controllo dei confini locali. Dobbiamo superare gli interventi di stampo emergenziale come quelli messi in atto in passato dall'Europa. L'Italia deve potenziare la propria presenza in Africa tramite la rete diplomatica e la partecipazione alle campagne antiterrorismo, però bisogna riuscire anche a rafforzare quella che è la cooperazione politica nelle sedi internazionali, ampliando poi le iniziative per le migrazioni regolari. C'è poi una grande scommessa, una sfida che lanciamo al prossimo governo, cioè investire per creare una filiera della conoscenza politica in Africa e per responsabilizzare le dirigenze politiche africane. Questo è quanto suggeriamo, ovviamente in modo non richiesto al governo italiano. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon festival della diplomazia. Grazie.